È ricoverato all'ospedale Rummo di Benevento in Prognosi riservata il 77enne di Morcone che questa mattina è rimasto gravemente ferito in un incidente agricolo. L'uomo stava dissodando il terreno nel cortile della sua casa a Contrada Canepino quando la moto zappa che conduceva con un balzo gli è finita sulla gamba sinistra. Le grida di dolore del 77enne hanno richiamato per fortuna l'attenzione dei familiari che hanno fatto scattare immediatamente l'allarme. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 Croce Rossa con l'ambulanza attrezzata per la rianimazione, i carabinieri della stazione di Morcone e i vigili del fuoco del comando provinciale. I pompieri e i soccorritori medici hanno con la massima delicatezza rimosso le lame in ferro dall'arto del malcapitato che successivamente è stato caricato in ambulanza. A causa delle moragie in atto il medico rianimatore ha quindi chiesto l'intervento del 118 che è atterrato in uno slargo alle porte di Morcone. Caricato il ferito, il velivolo si è alzato in volo ed ha trasportato il pensionato a Rummo dove i medici lo hanno operato e ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri hanno invece effettuato i rilievi e sequestrato la motozappa.